e amici miei e pokemon art e cosa c'abbiamo oggi da spacchettare con gli amici vi ricordate il foglietton di evoluzioni e poi questa storia qua che vi ho detto del kit snorlaxone ed eccolo amico mio che bombarda con la carta quella che c'ha le funzioni speciali e tanti pacchetti e poi devo dire che snorlaxone grazie al pokemon go ma io comunque l'ho sempre amato è veramente veramente amico mio pigliamo il cadreghin è veramente tornato al top e amici miei io direi che meritiamo qui con my assistant ormai super expert di aprire e spacchettare questa meravigliante kit set che noi ce lo apriamo e ce lo spacchettiamo praticamente così non dobbiamo aspettare il natale amici perché per noi è sempre natale e la festa poi praticamente del consumerismo l'albero le lucine lo stress la para noi non ce lo viviamo ed ecco qui questa meravigliante guardate che snorlaxone amico mio GX insomma con una nuova dinamica di gioco apriamo bene perché se già apriamo bene i pacchetti io direi che un packaging di questo tipo veramente merita fanno delle scatole ogni tanto un po' blindate un po' impacchettonate che ci dobbiamo aprire bene qua le mettono con la colla potrebbero fare una bella scatoletta ma eccolo qui a me gomeo ecco qua che tiriamo fuori il kit in diretta amici vai tira tu di qua io tiro di qui e amici il kit snorlaxone e vediamo subito che cosa c'è dentro miravigliante allora passavatemi questo bellissimo kit di snorlaxone che è un regalo boomerang che ci siamo fatti noi due è vero o non è vero? battisto 5 e vediamo bene vabbè intanto devo dire una carta fantastica miravigliante come quelle che si vedono nel set evoluzioni come le carte quelle della antichità guardate che meraviglia questa ce la mettiamo subito nell'album e poi questa con tutte queste nuove funzioni io come sapete amici colleziono vi recensisco i disegni non giuego coi pokemon però mi hanno detto che c'ha un'energia una roba pazzesca che si può attivare con questa roba qua doppia cosa tricks insomma per chi gioca una bomba ma tenerla in mano amici è veramente bella tra l'altro abbiamo visto il livello x poi abbiamo visto il livello primi livello 10 poi le x poi le x quelle altre nuove e adesso gx guarda che bombetta tienila in mano veramente un piacere e poi amici questa qui che ci vediamo bene nello stile antico quello di evoluzioni come ci piacciono a noi guardate che biraviglia delle misibiglie corpo scontro tra l'altro che è anche una mossa che uso al pokemon veramente veramente bella guarda questa che meraviglia e poi amici abbiamo i pacchettelli perché qua nel kit alla fine c'è comunque vedete c'è uno di evoluzioni un altro di evoluzioni un altro di evoluzioni e poi hanno pensato bene di come sbolognare antiche origini che devo dire però a me è un'espansione che è sempre piaciuta e poi ci abbiamo la mega carta amico mio la mega carta che sapete vabbè e poi il codicello ma questo ve lo tengo fuori del kit per ultimo sapete che le mega carte prendiamola eccola qui la nostra prima mega carta io non le amo tanto ma visto che Snorlaxone è un gigante possiamo anche permetterci carta gigante per pokemon gigante cisteuch una carta pokemon gigante amico mio e amici miei apriamo subito uno di questi pacchetti del kit evoluzioni e vediamo bene apriamo bene come al solito con la cura l'attenzione che bisogna prestare dato che qui parliamo anche di packaging artistico e vediamo bene tieni tu me le passi speriamo di trovare quel pikachu surfista delle fuori serie che ci mancano e chi ci abbiamo qua Seel Poliwag un Tangla un bel Voltorb questo intanto è il mio cello amico mio con Hayao Miyazaki non vi preoccupate non rispondiamo energia una Turbo che vumbardone amico mio Machamp Turbo e beh con questa musichetta di sottofondo del mio cell che squilla ci sta veramente da dio Machamp Turbo che bomba veramente veramente bella e poi il pacchettino continua con questo questo allenatore Misty amico mio Pikachu surf e la trovavamo e l'abbiamo trovata e la cercavamo amico e Battisto 5 e allora amico mio questa ci mancava Pikachu surf fuori serie segreta la cercavamo ci mancava nel nostro come dire raccoltone e devo dire che sto set snorlaxone ci ha dato veramente tanto mi apro solo un pacchettello il codicello del set ve lo do un altro giro rimanete tine d'amico mio ah beh con questa 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 e questa e questa beh amici miei come inizio non c'è male cosa vi dico matane ok